Ieri sera su Sky 1 è andata in onda la terza ed ultima puntata di X-Factor 9 dedicata alle audizioni. Abbiamo assistito alle ultime scelte da parte della giuria formata da Mika, Fedez, Elio e Skin. La prossima fase sarà quella dei Bootcamp, due le puntate previste e infine gli Home Visit. Poi la gara potrà ufficialmente cominciare e dopo aver ascoltato tante audizioni scopriremo finalmente chi ha l'X-Factor in questa nona edizione del talent show di Sky. Nel nostro consueto spazio dedicato alle esibizioni più applaudite della puntata di X-Factor 9 appena terminata e dedicata alle ultime audizioni, è impossibile non cominciare dalla fine, cioè dal gruppo che si è esibito sul palco per ultimo. Loro sono gli Iron Mice, pittoresca band country che viene dalla Brianza e che con il suo rock contadino ha già conquistato i giudici di X-Factor 9. Tra i più bravi di questa puntata dobbiamo segnalarvi senz'altro Davide. Vive a Londra ma X-Factor potrebbe essere la sua grande occasione per tornare in Italia. Ha deciso di lasciare il nostro paese perché quando alla gente diceva che faceva musica loro rispondevano dai sul serio cosa fai? Con la sua Iron Sky guadagna i 4 sì dei giudici e passa direttamente ai bootcamp. Grazie a tutti.